Ci sono voluti due anni per vedere sfilare ben 5 carri nuovi di Zecca, 3 di prima categoria e 2 di seconda, nelle sfilate domenicali dopo che anno scorso l'unica vera novità fu il carro di Rossini del maestro Piccinetti, mentre gli altri erano solo dei comprimari rimaneggiati e riproposti. Quest'anno lo sforzo dei carristi è stato notevole per dare al primo carnevale a pagamento dopo tanti anni un corteo mascherato che fosse di vero impatto e che facesse venire la voglia di esserci tutti al carnevale di Fano. Certo il segno distintivo del nostro carnevale è il getto di dolciumi proprio dai carri, ma la tradizione dell'arte della cartapesta fa 90 nobili natali e carri che sono rimasti nel cuore di molti, soprattutto appartenenti all'epoca d'oro in cui i capannoni erano lo sferisterio. Quest'anno il carro di Rossini se la deve combattere con un coloratissimo carro dedicato a Frida Calo, una gabbia di bolle gigantesca ed il carro del carnevale dedicato al Voulon. Ma tra il pubblico, dopo la sfilata, quale carro rimane nel cuore? Tutti, uno in particolare? Quello dove stava l'ospite, quello del carnevale di Fano, è piaciuto? Sì, di più. Quello di Rossini, perché? Molto bello, bellissimo. Complimenti, voi l'avete visti? Sì, bellissimo. Tutti belli quali? Tutti. Uno in particolare? Quello di braccio di ferro. Ma guardi, quello del pesce azzurro era proprio bello, colorato e anche Cuba. Anche Cuba? Sì, anche Cuba. Qual è quello che le è piaciuto di più? Frida Calo. Frida Calo, perché? Così. Perché bello. È bello, è fatto bene. Gioacchino Rossini. Quello di Rossini, è ancora un bel carro, anche se l'abbiamo visto anno scorso. Bellissimo. Va bene. Braccio di ferro. Braccio di ferro. Perché è così? Perché non è costruito. Ah, è spontaneo. È la classica ricordo dell'infanzia, non ce lo metti. È vero? Il ricordo dell'infanzia. Braccio di ferro è sempre braccio di ferro. Esatto. Ti sono piaciuti i carri? Molto. Quale ti è piaciuto di più? Quello di Rossini. Quello di Rossini, anche se è sfilato all'anno scorso. Anche quello della musica rabita. Ti piace il carnevale? Molto. C'è uno che vi ha colpito in particolare? Allora, quello, non so qual è il personaggio principale, ma col violino. Rossini. Rossini, quello. Perché, per quale motivo? Come era fatto? Bello proprio come è strutturato. Quale vi è piaciuto questa? Una di Alda Merini, il più bello di tutti. Frida. 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 Perché? Ah no, sei fatto per bene, bello. Colorando, comunica. Bello, 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 bello. Frida, bello. È un bel carnevale qua. So, è l'unico. So, è un bel carnevale qua. Siamo,顏lli gi Holding.